Abbiamo pensato di ritornare a quello che era il nostro scopo iniziale e quindi ritornare al comitato civico e interessandoci soprattutto di quelli che possono essere i temi che interessano di più a tutta la cittadinanza al di là dell'appartenenza politica. Fra i temi c'era sicuramente quello dell'asilo nido che era presente nel programma di TUAP per quanto riguarda le elezioni ma anche nel programma di tutte le altre liste praticamente e quindi abbiamo pensato di iniziare proprio l'asilo nido. Tanto più che l'amministrazione di Portoguaro proprio nello stesso periodo ha manifestato l'interesse ad aprire un masilo nido a Portoguaro. Si sente lì in fondo così e aspetta che proviamo a metterlo. Così va meglio? No. Allora dicevo appunto che proprio nello stesso periodo l'amministrazione di Portoguaro ha manifestato l'intenzione di aprire un asilo nido. Noi ci eravamo già trovati come TUAP proprio perché eravamo molto interessati al discorso del nido e quindi abbiamo colto l'occasione per inviare una lettera a tutti i consiglieri comunali sia di Portoguaro che di Concordia sul tema dell'asilo nido. Ovviamente abbiamo inviato anche a Concordia perché le famiglie di Portoguaro usufruiscono del nido di Concordia e quindi ci sembrava giusto coinvolgere anche l'amministrazione di Concordia. Di seguito alla lettera che abbiamo inviato ci hanno chiesto di incontro alcuni consiglieri di Concordia con i quali ci siamo confrontati e abbiamo pensato che sarebbe stato opportuno fare un incontro per discutere insieme di quali sono le necessità e le esigenze di un servizio così delicato come quello del nido. Tenendo conto che come TUAP avevamo individuato alcuni punti fermi. Il primo era che non c'era nessuna competizione né concorrenza fra Portoguaro e Concordia. Quindi doveva esserci un'integrazione del servizio che rispondesse in maniera più opportuna alle esigenze del territorio ma senza in nessun modo di condizionare processi di concorrenza. L'altro aspetto su cui noi abbiamo discusso molto è il discorso della qualità. Cioè un servizio di nido richiede una riflessione importante perché da una parte ci sono i dati cioè il fatto che l'indicatore che è stato previsto nella conferenza di Lisbona era del 33% dei posti per ciascuna area territoriale di disponibilità negli assili nido. Siamo molto lontani da questo punto ma sappiamo anche che questo è un tema così importante che anche all'interno del piano nazionale di ripartenza e resilienza c'è uno specifico capitolo per i nidi con finanziamenti anche dedicati. Quindi da una parte c'è questo, dall'altra parte l'offerta che non è sicuramente adeguata ai bisogni del territorio e dall'altra parte però abbiamo identificato anche la necessità di aumentare la domanda perché ci sono molte famiglie che non si avvicinano al nido o perché non conoscono il servizio o ancora più spesso perché il costo allontana le famiglie e allontana le famiglie che di solito ne hanno un po' bisogno. Quindi per questo motivo ritenevamo molto importante che ci fosse una riflessione complessiva su quella che era la qualità del servizio di nido che si intendeva proporre e anche su quella che è l'intento delle amministrazioni comunali, qual è il loro progetto per l'esino nido. In questo senso, quindi abbiamo fatto questo incontro di oggi, abbiamo invitato Paola Sartori che è una esperta che lavora per il Comune di Venezia proprio nel settore infanzia e come formatrice quindi potrà darci delle indicazioni molto accurate per quel che riguarda la qualità. Abbiamo invitato le amministrazioni comunali e ringrazio qui il Sindaco di Concompia che è presente proprio perché riteniamo che sia necessario lavorare insieme per costruire un servizio di qualità rivolto al territorio e che faccia aumentare sia l'offerta che la domanda del servizio di nido.